Siamo convinti della grande opportunità di promuovere un territorio attraverso il cinema. È una cosa su cui stiamo operando da tanto tempo con Inca Sproduzioni e in particolare questa occasione è quella di raccontare non soltanto un territorio ma anche una persona di un grande spessore quale Giulio Pittarelli. In generale il Molise e l'area del Matese più volte hanno accolto produzioni cinematografiche sia sotto forma di lungometraggi che di cortometraggi e questa opera diretta da William Mussini racconta proprio la vita di un personaggio che dal Matese è partito per portare Lustro in Italia attraverso la sua scienza. Ci è piaciuto al primo momento l'idea del comune di Campochiaro di promuovere la cultura del territorio attraverso il personaggio di Pittarelli e sono convinto che un lavoro di questo tipo non potrà che affascinare tutti coloro che avranno l'opportunità di vederlo.